C'è una storia della chiesa giapponese che affascina l'essere stata capace di sopravvivere pochi decenni dopo la sua nascita a due secoli e mezzo di persecuzioni durante i quali il cristianesimo era stato messo al bando e nessun prete poteva entrare nel paese del suo levante. Sono gli anni tra l'inizio del 1600 e la metà del 1800 ma c'è un'eccezione altrettanto affascinante quella di Giovanni Battista Sidoti missionario palermitano che per sei anni all'inizio del 1700 è riuscito a raggiungere il Giappone ed annunciare il Vangelo. All'inizio viene accolto, messo in prigione ovviamente perché non si capisce questo qui straniero che riesce ad andare in Giappone in un tempo di grande chiusura del paese, viene poi interrogato da un consigliere dello shogun, un neoconfuciano che si chiama Arai Akuseki e la vita sarebbe rimasta così, avrebbe vissuto fin tanto che morte non sarebbe arrivata, però siccome i due servi gli chiestero di essere battezzati, lui li battezzò, i due servi poi si auto accusarono e allora lui insieme con i due servi è stato messo in una buca ed è morto il 27 novembre 1714. C'è una bellissima frase di Giovanni Battista Sidoti che è interrogato da Arai Akuseki, Akuseki criticava Roma perché secondo lui Roma poteva invadere il Giappone e Akuseki diceva sono le religioni che di fatto danno fastidio, provocano le guerre e lui diceva che non c'è, ma 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 non c'è.